Due, tre, via! Oh mamma! Ciao! Cosa facciamo? Facciamo challenge Come si chiama la nostra challenge? Invisible box! Scatola invisibile challenge Facciamo con il nostro cugino Mila Vi facciamo vedere guardate che Scatola Uno, due, tre Ho tagliato mamma Sei ultima Uno, due, tre Hai perso Uno, due, tre E' mio Io ho vinto No Allora ragazzi Adesso vi faccio vedere la mia scatola Tieni Tieni Mettili E adesso devi attraversare E adesso devi attraversare Ancora No 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 Niente Zero Non è andato No Adesso fa Paolo Dai, vai, 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 vai Niente Oh Oh Adesso io Io sono adesso arrabbiato Mi avete rotto Avete capito? Io mi allenavo tutta la settimana Per questo challenge Ami, prova tu Oscar Così Amelie ha messo Dai Quasi ancora Incora una volta Poi ancora una No, niente Ultima volta Oh Questa è andata Adesso fai tu io Adesso fai tu Io ho vinto solo una volta Dai Elena Preparati Hai rosso fiore Ti sento Ti sento Era così Voleva fare figa Vabbè No 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 Allora Chiudete occhi No Chiudete occhi L'abbiamo chiuso Adesso Chiudete Chiudete Ho fatto 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 Mi Ho fatto Ho fatto